Quali sono i vostri nomi? Giuseppina Anna Maria Quale classe frequentate? Secondo superiore Andate in classe insieme? Sì, sì Di quale scuola? Giustino Fortunato Giustino Fortunato Fatemi sentire come sono stati i primi giorni di scuola? Pesanti? No, no I professori come vi sembrano? Ancora calmi? Non tanto Di già? Sì E dite voi qualcosa alla telecamera riferita ai professori Che devono essere? Buoni E non sei veri Brave E voi dovete studiare quest'anno Vi raccomando ragazze È per voi Brava Se lo fate un saluti da Campania Tube?